Oggi nella consueta riunione della giunta comunale, fra le altre delibere, l'esecutivo presieduto dal sindaco Claudio Pedrotti ha approvato il nuovo assetto organizzativo e funzionale del comune di Pordenone, che consente di riorganizzare l'ente anche in funzione della sostenibilità del bilancio. L'assessore Renzo Mazzer illustra le novità e i provvedimenti assunti. Siamo riusciti ad approvare un provvedimento importante che riguarda il personale, è un cappello che riguarda l'organizzazione di tutto l'ente, che ci consente di razionalizzare in maniera più sinergica quella che è la dotazione organica di tutto il personale. Significa risparmiare, significa risparmiare sul numero totale di dirigenti, significa risparmiare in termini complessivi di personale, mantenendo anche dal punto di vista organizzativo le stesse efficienze che abbiamo oggi. Settori più grandi con maggior personale ci permettono di ragionare in termini sinergici in maniera diversa rispetto a settori più piccoli, dove anche una sola persona che venisse a mancare contava dal punto di vista dell'organizzazione del servizio. Abbiamo concordato in giunta che tutto questo partirà con il nuovo bilancio, da quel momento in poi ci sarà la nuova struttura che funzionerà. Tutto questo è propedeutico anche proprio a resistere ai pensionamenti dal punto di vista organizzativo senza fare altre assunzioni. Grazie. 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 Grazie.